Decisero di andarla a trovare a casa. Avevano anche scogitato un geniale stratagemma per farlo confessare e metterlo di fronte alle sue responsabilità. Vengo, vengo, bocconcino mio, come sei impaziente? Sono già in tiro. Oh, scusate, aspettavo una passerona. Desiderano, sì. Siamo due membri del Comitato Protezione della Giovina. Oh, ma allora siete pieni di robina. Venite, 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 che mi interessa quella roba lì. Sia comodi, signora, non abbia paura. Permette l'orisbatacchi. Ma che fa, scusi? Il baciamano. Beh, allora, queste bambine. Ma quale bambine dici? Stiamo svolgendo un'inchiesta su uno dei pericoli che maggiormente affliggono il mondo delle giornate. I seduttori. Esatto. Ma allora avete avuto un gran colpo di culo. Ma siete approdati al top, al massimo dei massimi. Ma prego, sedetevi. Si sieda, signora, si sieda. Se ci fosse un ente per i seduttori, io sarei il presidente a vita. 6.000 vittime. Ma quasi la popolazione di Sant'Arcanzio di Romagna. Le faccio i miei complimenti. Meritate modestamente. Eh no, questo è un'oppio. Io sono assessoriato di tutto, cosa vuole. Tenga che si diverte. La prego, lo prenda. Non morda, mica sa. Non ne faccio. Eh, quasi un po' di confusione, ma sa, è un ufficio per me. La mia stanza di lavoro. E adesso chiedetemi pure senza remissione. Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente. Eh, no! Capito il doppio senso? Mi puoi dire, scusi, gentilmente di questo qua. Ma questo lo diamo alla signora, che si diverte anche lei. Lo tengo io. Lo metto qua. Mi puoi dire, gentilmente, signore, dove lavora lei? Io lavoro alla posta. Capo ufficio Patti. E allora, per spiegare meglio il concetto... Sì, lo so, ma non potrebbe magari spiegarsi con uno stile più confacente... È più chiaro di così. Lo stile di mia moglie. Va bene. Senta, lei conosce la signorina Fantozzi? Mariangela Fantozzi. Mariangela Fantozzi. Fantozzi. Cosa vuole? Fantozzi? Fantozzi. Sì, con l'aseto, capito, non so mica scemo. Fantozzi, adesso guardo un attimo nello schedario, dove c'è della bella pasturone qua. Allora, mi scusi, quali sono le attenzioni? Quali sono allora? Capo ufficio Pacchi. Ma sì, ma va bene, l'ha già detto. Ah, ecco qua, Fantozzi Mariangela. Ecco, 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 è una mia collega, una mia sottoposta. E voi sareste della protezione delle giovani? Mo birichini, mo vala che siete della protezione degli animali, siete. Questa cos'è? Mosle brutta. È un tipo. Un tipo? Sì. Un tipo di simi, un tipo. Il tipo più brutto d'Europa. Me lo ricordo. È stata una delle mie più grandi soddisfazioni. È stata un'impresa disperata, proprio. Ho scommesso con dei miei amici. Un milione. Se ci davo l'orango. È Mariangela. Esatto. Mariangela? Questa qua è l'orango, altro che Mariangela. Guardi, ci racconto subito. Mi son detto, batacchi, qua ci vuole il buio perché alla luce con questa non ce la fai neanche te. Ma che dici? L'ho portata nel magazzino dei sacchi. Era buio. C'era la tempesta fuori. L'ho messa lì e ci ho dato, che ci ho dato, che ci ho dato. Alla cieca, dove prendevo, prendevo. Devo aver preso anche lei comunque. Mi sono affidato alla bestia. Cioè, Mariangela. No, cioè, voglio dire, alla bimba. No, al bicione. Ma gliel'ho pur detto. Cosa c'è dentro il pacco? Il bicione. È un cobre che gonfia la testa e tac, scatta fuori. E non si ferma più. E la signora lo sa, vero? Ugo, per favore, intervieni. Senta. Scusi, signore. Dica pure, dica pure. Le ricordo per la seconda volta di usare un linguaggio più civile con la mia moglie. Perché? Perché mia moglie non è abituata a queste storie dei bicici. Oh, ma l'abituiamo subito, non c'è problema. Ma voglio dire che io e mia moglie siamo i genitori di Mariangela. Dell'Orango? Cioè, lei, questa signora è mia moglie. Ma la signora, la mamina. Oh, ma guarda che bella mamina che c'è qua. Come va? Guarda che belina. Ma deve essere una che gode poco, però. O ci penso io, ci son qua io. Ah, che bella mamina. Quanto avrà? 48, 49 anni? 44. 44? Ma la prendo sotto cura io. Le faccio una bella curetta di una settimana. E le cambio la tinta dei capelli. La faccio diventare biondina se la metto qua sopra. Per favore. Ma non sa come mi chiamano? Mi chiamano lo spattolatore folle. Come? Io la faccio diventare passa la signora. Vedrà come cambia fisonomia. Sì, perché deve sapere che io c'ho tutta una collezione di stampe pornografiche con tutte le mosse, le posizioni, capito? Io la chiamo la via Crucis. La fermo a tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea. Senza, Pascalzone. Queste stazioni le faccio fare a sua sorella le faccio fare. Certo. A sua sorella? Sì. Ma c'ha anche una sorella? Come? Eh, ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio. Sia femmo con le mani. Che si diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei. Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spattolatore. Sa cosa le faccio? Io prendo la signora e la sorellina. E le metto qua sopra tutte e due. Lei stia attento che le faccio vedere. Sì. E una di là. E via di spatole. Venga anche lei. Venga anche lei che lo faccio diventare passo. Che ci do di spatola. Io mi rilasco. No, lei stia qui con me che la metto nell'archivio. Sì. Sa la fotografia? Ma usiamo quella della patente. Lugo, non dare confidenza. Io ci do di spatola perché sono un maschio coi fiocchi e coi maroni. Dove eravamo rimasti... Mangiamo su. Senti, ma come... Siamo incinti. E cioè, voglio dire, e Mariangela? Ma vuoi dare a uno così? Sì, sì, sempre più difficile. Ci sbatti in mezzo che questa. Via tutto. Non c'è due maroni senza tre. E sa cosa le rico, caro signore? Che a noi non c'è importa un fico. Delle sue castagne, dei suoi marroni e delle sue spatolate. Arrivederla. Senta, davvero potrei diventare passo. Cammino. Scusi.